tanti tanti auguri di buon anno ragazzi tanti auguri ragazzi buon anno buon anno anche oggi siamo qua abbiamo fatto un video proprio proprio a mezzanotte 01 l'abbiamo messo specialissimo porca miseria ragazzi farvi il nostro augurio più sincero con tutto il cuore esatto ragazzi esatto è un augurio davvero di cuore e un ringraziamento a tutti voi un augurio di buon anno ovviamente è un ringraziamento per tutto quello che hanno fatto per noi questi ragazzi praticamente hanno deciso di volerci seguire per così tanto tempo ed è vero crescere insieme a noi perché è la nostra famiglia perché cresce con noi ragazzi siete proprio voi vi ricordo che il 25 gennaio quindi tra 25 giorni oramai quasi 24 sarà un anno che c'è il canale il compleanno del canale non dell'oxuder è del canale ragazzi del canale e ovviamente poi festeggeremo tutti assieme come sempre una grande grande festa beh ragazzi dai non portiamogli più via tempo che sono qualche sta festeggiando continuate ciao ragazzi alla prossima ciao tanti auguri ciao 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 ciao